Avviso alla popolazione, il paese sta chiamando, tutti i cittadini sono pregati di recarsi al punto di ritrova. Avviso alla popolazione, il paese sta chiamando, tutti i cittadini sono pregati di recarsi al ritrova. Buongiorno. 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 Avviso alla popolazione, il paese sta chiamando. L'amica dov'è il punto di ritrova? Certo. È di noi zersi. Da travalovasi. Avviso alla popolazione, il paese sta chiamando. Mi ci porterebbe per caso lei? Tutti i cittadini sono pregati di recarsi al punto di ritrova. Buongiorno. 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 Sapete mica dirmi dov'è il punto di ritrova? Fa, inoltre città e un'racca. Hai pregato tutto il rosa, il Juno. Sei portendente dai sacerresi? Do sacerresi di quanto accontrallo, se pare? E di annuo, già lo dicono un parut. E non ti sento a vedere. e il collega gli ha risposto due dico domani ma compresa l'ultima? ma cos'è l'ultima compresa per favore? tu sei sarello di quanto tra l'ultima pari no e il suo saluto gli hanno saluto di compresa e c'altro gli ha risposto e non dice senza vederti ecco qui dove dico domani? io non ho capito ma devo arrivare al punto di ritrovo mi ci portereste voi? no 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 mi sono andato a tornare il suo prezzo se ci portate su un punto di ritrovo a Camposanto buongiorno 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 sapete mica dov'è il punto di ritrovo? è certo certo bufa ma stai male non mi taglio a combinar mi guidereste voi? è certo è certo avviso alla popolazione il paese sta chiudendo tutti i cittadini sono pregati di recarsi al punto di ritrovo avviso alla popolazione il paese sta chiudendo tutti i cittadini sono pregati di recarsi al punto di ritrovo ma è vero che il paese sta chiudendo certo non mi taglio a chiudendo ma è vero 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 non mi taglio a chiudendo non mi taglio a chiudendo non mi taglio a chiudendo ma è vero